La Regione Abruzzo sta proseguendo il suo percorso virtuoso per un miglioramento progressivo dei conti e la Regione quindi, grazie al buon lavoro della Corte, che ha lavorato anche nei tempi, può approvare il rendiconto e procedere alle modifiche imposte dal giudizio. Una parificazione con riserva dunque per alcune osservazioni che la Regione dovrà mettere in regola, che poi sostanzialmente sono le medesime criticità che attanaiano tante Regioni, ma senza preoccupare più di tanto. Il Presidente della Sezione Regionale di Controllo per l'Abruzzo della Corte dei Conti, Stefano Siragusa, ha esplicitato la sua relazione. Diciamo che la Regione sta proseguendo il suo percorso di miglioramento dei conti e quindi della situazione finanziaria, che progressivamente sta migliorando sempre più. La Corte anche quest'anno è riuscita, nei tempi consentiti dalla legge, di fare in modo che la Regione possa approvare il rendiconto e quindi procedere alle modifiche che si renderanno necessarie all'esito del giudizio. Per quello che riguarda la criticità possiamo dire in linea generale che sono quelle tipiche, un po' di tutte le Regioni italiane, di quelle che anche l'anno scorso si sono presentate come tali. Comunque, ripeto, la Corte prosegue il suo percorso di monitoraggio nel corso dell'attività tutto l'anno. La Regione ha chiuso la gestione 2023 con un risultato di amministrazione di circa 761 milioni di euro in miglioramento rispetto al saldo delle gestioni precedenti. L'andamento del disavanzo presenta un costante miglioramento dal 2017. Sul bilancio l'Abruzzo nel 2023 risulta in equilibrio, avendo conseguito il risultato di competenza dell'esercizio non negativo. Nelle risultanze finali del rendiconto non emergono quote di disavanzo applicate. Ciò è dovuto al completo recupero dei disavanzi di gestione del 2014 e 2015 e alla proroga di rimborso delle quote annue dell'anticipazione di liquidità ricevute dal 2017. Al setaccio è passata anche la spesa sanitaria che si conferma preponderante rispetto alle risorse destinate alle altre politiche regionali. Il comparto sanitario abruzzese nel periodo 2019-2020 ha sempre registrato un risultato di esercizio negativo, si legge nella reazione, con un peggioramento nel 2022 quando le aziende sanitarie non sono riuscite a coprire il deficit. Gli ultimi dati comunque parlano di un decremento del risultato negativo di esercizio delle ASL, fatta eccezione per Lanciano Vastochieti. Problematiche ricorrenti sono il superamento della spesa farmaceutica, il risultato in perdita delle ASL, il ritardo nel pagamento dei fornitori, il contenziosi. La Corte in questo senso prende atto di tante azioni positive della Regione, ma la invita a consolidare il monitoraggio al fine di ridurre le coste entro i tetti stabiliti. Un focus anche sulla riduzione delle liste di attesa, che deve essere obiettivo di tutti. Molta attenzione anche al controllo dei fondi europei e del PNRR. Grazie a tutti.